Buonasera cari amici di Pavia 1 TV, ben ritrovati all'appuntamento con protagonisti, un'edizione speciale oggi perché abbiamo il decano dei sommelier Carlo Aguzzi che torna in libreria per un'iniziativa a cavallo fra la cultura enogastronomica locale e la beneficenza, restate lì Bentrovato caro Carlo Aguzzi, è una gioia avervi con noi su Pavia 1 TV, come stai anzitutto? Bene, diciamo bene, siamo bene, è un piacere anche per me rivederti dopo tanto tempo, almeno ci troviamo collegati in compagnia, è un piacere E ci troviamo per una liettissima occasione perché hai deciso di consegnare alle stampe e ormai sta già facendo il giro della provincia di Pavia ed è già un titolo che gli amanti del gusto e delle tradizioni locali stanno facendo la corsa per andare a comprare il Pavese a tavola. Come nasce questo progetto editoriale Carlo? Beh, è nato in questo periodo qua di fermo forzato, tu sai meglio di me, purtroppo noi sommelier siamo bloccati, non possiamo lavorare in questo periodo e allora che ho deciso di fare? Ho deciso di fare un libro, visto che non posso fare altro solo a casa, da buon pensionato anche e ho fatto questo libro che è appunto il Pavese a tavola, dove è stata un'idea mia, però mi hanno aiutato, supportato il Kivanis Club Pavia e il lettore Ponzio che sono stati entusiasti di questo mio progetto e allora abbiamo deciso di fare questo libro, libro che comunque è in libreria da adesso e che il ricavato andrà tutto quanto in beneficenza comunque, mi sembra che è giusto aiutare chi non può sempre beneficiare di certi vantaggi insomma, ecco, tutto lì. È un'iniziativa bellissima, ti chiedo cosa c'è in questo libro, che cosa racconta e su che cosa verte? Beh, sono due capitoli diciamo così, il primo che riguarda appunto il Pavese a tavola, proprio enogastronomia pavese, sono un po' i miei ricordi di quando ero ragazzino, di quando ero adolescente ancora dove mangiavo i piatti da nonna, dalla famosa russima per intenderci, quindi lo zabaione l'ho sbattuto, alla risa e latte per intenderci, oppure anche la zuppa pavese che ha la sua tradizione che qui a Pavia è abbastanza importante in questo senso, quindi sono le tradizioni gastronomiche di una volta, ecco tutto lì, non è un libro di ricette, c'è qualche ricettina, ma non è un libro di ricette, è un libro dedicato un po' ai miei ricordi, con questi piatti, con la parte un po' storica, che tu come meglio sai, io amo definirmi più che sommelier e non storico, perché mi piace... Ma in effetti sei tutte e due le cose, diciamo che oggi si dice storyteller, ma Carlo Aguzzi è il decano dell'associazione italiana Sommelier, ha portato la sommellerie in provincia di Pavia, inoltre può pavese, è stato testimonial, oltre che sommelier, è stato anche testimonial di grandi cantine, penso ad esempio al Carlo Aguzzi impegnato con la laversa del Duca Denari, penso al Carlo Aguzzi oggi impegnato con Torrevilla, penso al Carlo Aguzzi impegnato per tutti quegli eventi che hanno celebrato nella storia di così tanti anni, anzi quanti sono gli anni di sommelleria adesso? Sono ormai 38 anni che faccio sommelier, ragazzi 38 anni, sì sì. Vuol dire, vuol dire praticamente, lo dico per chi non lo sa, siamo agli albori della sommelleria in Italia, praticamente, quindi però diciamo ecco che tu sei stato non solo un sommelier del vino, ma anche qui c'è anche un mito da sfatare, il sommelier è un assaggiatore professionale che spazia, quindi anche la tavola, anche la ristorazione, i sapori tipici hanno un ruolo molto importante. Ecco, questo libro, il Pavese a tavola, Carlo, che tu hai consegnato alle stampe, con un editore tra l'altro Pavese e per aiutare un'associazione benefica al Kivanis Club di Pavia per fare del bene, sfata anche il mito secondo cui qualcuno dice, ah, non abbiamo abbastanza tradizioni noi a tavola in provincia di Pavia, invece non è affatto vero. No, non è affatto vero, hai ragione, l'unico pecca, diciamo, Pavese della provincia di Pavia è che non c'è una tradizione quasi scritta dei nostri piatti, delle nostre ricette, è una tradizione orale, perché purtroppo noi siamo, viviamo di ricordi delle ricette della nonna, magari il vecchio quadernetto, ti ricordi quei quaderni una volta con la copertina nera e la bordura in rosso, e così via, che erano le ricette della nonna, ma non c'è una tradizione scritta, qualcuno ha provato, in questi anni poi c'è stato un grande lancio anche delle ricette, però le vecchie tradizioni non ce le sono, dobbiamo risalire a che cosa? Allo Scappi, che era il cuoco di Pio V, quindi di Papa Ghislieri per intenderci, proprio, quindi non c'è proprio una grande ricerca, le cose storiche, esatto. Da un certo punto di vista questo libro, Carlo, suona anche come un invito alle giovani generazioni, tu parlavi giustamente, hai introdotto questo tema della nonna, che è stata quella che ci ha fatto innamorare di quello che trovavamo a tavola, dei nostri piatti tipici, del nostro vino in abbinamento, e era un'educazione che c'era allora. Oggi questa tradizione si è un po' persa, forse perché, Carlo, e qui ti faccio una provocazione, nel libro Il Pavese a Tavola c'è anche una riscoperta in senso culturale, dobbiamo avere cultura delle nostre radici, no? Sì, sì, esatto, perché tu pensi dietro a una ricetta, dietro a un prodotto, dietro a un vino, soprattutto, perché come vino, soprattutto l'importante è quello, c'è un pezzo di storia, la storia dei nostri avi, e c'è un motivo per cui magari questo vino è nato in questo senso, o perché questo piatto è nato in un altro senso, quindi proprio bisogna riportare ancora alle origini e tornare a studiare proprio perché è nato un piatto particolare. E questo, se più, se tu capisci il piatto, se tu capisci la sua storia, capisci, lo interpreti meglio e lo gusti anche meglio. Sentite che amore traspare dalle parole di Carlo Aguzzi. Ti domando questo, Carlo, quanto tempo è occorso per scrivere questo libro, Il Pavese a Tavola? Beh, la prima parte del Pavese, una piccola ricerca, mi è costato un paio di mesi di ricerca proprio, poi la stesura e tutto quanto. Invece la seconda parte, che poi è Sorsi di Galateo, e vuol mettere, poi il sottotitolo è A tavola con stile senza farne un dramma, perché a volte il Galateo adesso non si usa quasi più, sembra che sia passato di moda, invece per me ha una sua certa importanza, anche perché io purtroppo ho avuto problemi di Galateo, quando ho dovuto servire il Presidente della Repubblica o il Papa, o come rappresentante, questo forse sono in pochi, ma ci tengo, e sono onorato di dirlo, sono stato il sommelier che ha rappresentato l'Italia a Strasburgo, al Parlamento Europeo, nel 2004. Quindi l'altro il Popavese ha fatto bella figura, non per me, ma per i suoi vini, e quindi io li rappresentavo, quindi per me è un metodo vanto, ecco questo qua. Ma anche per te, anche per te, anche perché si fa sempre cultura impegnandosi in questo senso, ti chiedo anche dove si può trovare il libro Il Pavese a tavola? Beh, a parte l'editore, Ponzio, che è anche un lanto quanto, Pavia lo troviamo alla Filtrinelli, in Via Roma, e alla libreria Il Delfino, che di quelle che c'è in Piazza Cavagneria. Poi io, sinceramente, devo chiedere anche al mio editore dove sono gli altri posti dove eventualmente li ha collocati, perché ma io so già un'altra cosa, benché io sia paladino delle librerie e dell'andare ad acquistare direttamente dal libraio, si trova già anche online, sia sul sito dell'editore, sia anche sugli store online specializzati, perché c'è anche grande voglia di riscoperta della cucina e dei sapori come un volano di un'economia futura sostenibile. Perché, guardate, c'è stata una grande riscoperta della tipicità, siamo tornati con il lockdown e tutte le restrizioni a fare il pane a casa, a fare tanti prodotti a casa, no? E quindi io penso anche che ci sia proprio la voglia di sfogliare questo pavese a tavola in senso culturale per riscoprire le nostre radici e anche tornare anche alla bellezza che dà il cucinare, il lavorare con i sapori del nostro territorio, della nostra provincia. Poi Carlo, tu che sei, appunto, la parola sommelier è insufficiente per descriverti. Eno gastronomo, critico, degustatore, motivatore, storyteller, ce ne sarebbero un sacco. La provincia di Pavia è una bella tavolozza, dalla Lomellina al Pavese venendo all'oltrepo. Tante sono le contaminazioni, vero Carlo? È verissimo, è verissimo, ne sono tantissime perché la provincia di Pavia ha tinto, tramite le dominazioni, tramite le invasioni, tramite i confini proprio geografici, da tutto, dall'Emilia ha tinto la tradizione dei tortellini o dei ravioli. Forse, forse siamo gli unici che abbiamo non ha tinto per il riso, siamo anzi stati noi a sportare il riso, quindi Lomellina con il suo riso, con il sforza. Dal milanese ha preso la buzecca, la cassola e tutto quanto. Quindi ci sono tante belle contaminazioni gastronomiche che sono importantissime. In più c'è una cosa, che noi abbiamo un grande vantaggio, i vini. I vini o trepo sono grandiosi, secondo me stanno uscendo molto bene in questo periodo e quindi ne sono orgoglioso di poter portare avanti il nome del trepo Pavese per i vini, per i vini che stanno facendo dei grandi lavori. Sono stati anni di grande crescita, di grande dinamismo, i produttori si sono anche in molti casi specializzati, dove l'hanno fatto, penso al caso del buttafuoco, penso al caso dei grandi produttori di metodo classico, ha dato risultati. Ovviamente adesso devono riaccendere i motori del canale Orica, della ristorazione dei wine bar, perché è stato di fatto un anno quello che ci lasciamo alle spalle in cui questo canale non ha funzionato a sufficienza. Assolutamente no. Voglio anche chiederti questo, perché sono curioso, che cosa suggeriresti a chi oggi volesse, perché ovviamente il decano, non è per darti del vecchio, perché per me tu avrai sempre un'età tra i 15 e i 17 anni, perché come se sei sempre curioso e desideroso di esplorare nuove frontiere, però un giovane che oggi volesse fare il sommelier, il sommelier nel 2021 non è più il sommelier degli anni 70, che cosa deve tenere bene a mente un giovane che volesse intraprendere proprio la professione del sommelier? Beh, allora, una delle cose principali che io dico sempre è l'umiltà, e questo bisogna essere umili, mai sentirsi arrivati, questa è la cosa principale. Poi deve avere curiosità, la curiosità, conoscere i vini, conoscere, e ti dicevo prima le storie, e conoscere i personaggi del vino anche, e poi cosa che a me manca? La tecnologia e anche magari un po' le lingue, queste sono importanti. Un sommelier moderno deve essere tecnologico, io purtroppo sono già tagliato fuori, e sapere anche le lingue, questo è importante, per poter portare anche in altre lingue i nostri prodotti, queste sono importantissime. Però soprattutto è la curiosità, la curiosità e l'umiltà, per me sono i due requisiti principali, curiosità e umiltà, queste sono proprio le due forze del sommelier. Molto bene, e noi, voglio dirlo ai nostri ascoltatori come anteprima, avremo Carlo Aguzzi con il ristoratore Danilo Lembrini e il fiduciario Slow Food oltrepopavese Teresio Nardi dalla prossima settimana, con una trasmissione dedicata proprio alle tradizioni a tavola. Siamo convinti, anche noi a Pavia 1 TV, che ci debba essere una grande bandiera che deve sventolare, anche nel nostro sentirci anche ambasciatori della nostra terra e cercheremo di aiutare in un viaggio a puntate, in un viaggio settimanale a puntate, tutti quanti a fare la loro parte. Perché guardate, adesso c'è anche un grande messaggio che mi sento di lanciare con te Carlo, partendo dal libro Il Pavese a Tavola, che invito a leggere e a regalare, perché è un libro bellissimo di cultura locale. Però c'è anche da dire che i piccoli produttori hanno bisogno di noi, cioè siamo affascinati dalla tecnologia, siamo affascinati dall'acquisto che ci arriva a casa, siamo affascinati da tante cose, ma dobbiamo ricordare che oggi se torniamo a comprare in filiera corta sul nostro territorio, facciamo anche del bene a dei produttori che hanno sofferto tanto. Cosa ti hanno raccontato di questo ultimo anno Carlo? Eh beh, io ci siamo visti poco, se non per telefono ci siamo sentiti più che altro, ma guardate che appunto l'Orica purtroppo è in situazioni disastrose. Ha tenuto un pochettino il mercato della grande distribuzione, però non tutti sono attrezzati quella grande distribuzione. Quindi si vive su che cosa? Sul prodotto di nicchia, sul prodotto particolare, sulla curiosità di quel prodotto. Ad esempio adesso io sto, intanto per fare un esempio, io sono sempre della morte del buttafuoco, tra parentesi, quindi per me è grande. Lo portai a Monte Carlo tantissimi anni fa, più di 25 anni fa portai a Monte Carlo proprio il buttafuoco, non era ancora storico, pensate un po' voi, portai il buttafuoco come promozione e quindi per me il buttafuoco è un prodotto che deve per forza andare avanti nell'oltre proprio paese, così come il pinot nero, nelle sue versioni rosso o sfumante soprattutto. Quindi ecco bisogna promuovere questi prodotti e farli innamorare, perché il vino non è come una saponetta, bisogna farli innamorare, deve suscitare sensazioni, deve suscitare piacere di curiosità e piacere questo qui. Quindi ecco questo è lo che bisogna forza di fare. Il vino è soprattutto emozione, è emozione, è emozione, deve emozionare e poi anche un'altra cosa e lo diciamo e speriamo presto di poterla tornare a far vivere questa componente, è socialità. Cioè è bellissimo, la tecnologia ci ha permesso di fare le gustazioni anche online, le presentazioni dei vini. Non sono d'accordo. Io purtroppo, esatto, il vino è avere il bicchiere in mano io e te e scambiarci, guardandoci negli occhi, ma anche scambiarci i profumi, sentire, è socialità, è piacere di stare insieme e convivialità. Online è bello, giusto, è istruttivo, però è asettico secondo me e quindi ecco ci vuole il piacere di stare insieme. Ecco tu mi parla prima di Nembrini, che magari faremo qualcosa insieme, la cosa mi fa piacere perché Nembrini è stato insieme a me uno degli ambasciatori del prodotto di Pavesi, siamo stati in Polonia insieme tanti anni fa, più di vent'anni fa in Polonia a promuovere i prodotti pavesi, vino e prodotti, quindi io prendo il vino e lui prendo il cibo, quindi è un grande nemico e dà una gioia. E poi la competenza che ha a televisionarli è qualcosa di grande, quindi sarà un grande tristasse, tant'è vero che io prenderò nota e credo anche molti nostri ascoltatori quando vi ascolteremo. Intanto cogliamo anche l'opportunità di questa nostra intervista dedicata al libro Il Pavese a tavola di Carlo Aguzzi che ricordo nelle librerie di Pavia e ricordo che digitando Il Pavese a tavola di Carlo Aguzzi vengono fuori tutti i modi per poterlo comprare e regalare questo libro, questo è un libro anche che ha un omaggio molto particolare da fare, anche perché poi la serie è limitata, in più aiutate anche il Kivanis Club di Pavia a fare della beneficenza, volevo dire questo e cioè facciamo un augurio di buon lavoro al neopresidente del club del buon lavoro storico mi hai tolto le parole di bocca, esatto, io volevo fare gli auguri a Buttafuoco che ho compiuto gli anni proprio adesso e soprattutto a Davide Calvi che è nuovo presidente e sicuramente è un bello staff di collaboratori perché tutti i ragazzi che collaborano con il Buttafuoco sono veramente in gamba e quindi un bel augurio di buon lavoro e tanta fortuna, tanti cin cin con il grande Davide Calvi figlio di Walter Calvi, una grande firma della vitivinicoltura, formato famiglia del nostro oltrepopavese ma anche di una viticoltura autentica, Davide Calvi diceva a tante riunioni tanti anni fa, oggi è facile magari dire buttafuoco, ah che meraviglia, diceva che il segreto non era quello di avere grandi volumi sulle produzioni ma era di avere un nome, portarlo avanti, dare qualità e identità a quel prodotto e la famiglia Calvi è una, adesso non me ne vorranno gli altri ma che sono tutti validi produttori, però è una delle famiglie che ha gettato il primo seme, poi ha visto germogliare, si è dedicata molto al buttafuoco, vero Carlo? Verissimo, perché il Walter Calvi è stato quello che ha avuto la grande passione, ci ha creduto e soprattutto ha saputo far innamorare anche gli altri di queste sue teorie, di questa su filosofia e quindi ecco la validità del Walter Calvi che conosco da una vita e con il quale proprio con lui eravamo proprio nelle zone del buttafuoco, la Monte Carlo 25 passani fa e sono di più, quindi vedi che la passione è quella che poi porta avanti, sì esatto. Pensate un po', allora volevo chiederti anche se questo Pavese a tavola ha intenzione di portarlo compatibilmente con tutte le restrizioni che ci sono appena si potrà anche un po' in tour nella ristorazione locale. Sì, volevo fare qualche incontro proprio, diviso proprio, posso dirsi, magari con una piccola degustazione e in tour proprio, che siano le biblioteche, che siano le proloco, che sia comunque qualcosa che appunto ci dia la possibilità di stare insieme, stare insieme e chiacchierare insieme, scambiarci le parole e per me sarà anche un motivo in più per imparare qualche cosa ancora, perché non siamo mai finiti di imparare, quindi magari troverò magari in qualche paesino una ricetta strana, una tradizione, quindi ecco che mi fa sempre piacere imparare, essere insieme alla gente per questo motivo. Tu però sei già a buon punto, diciamolo, volevo chiudere invece con un tuo pensiero rivolto a una categoria che è sempre stata trait d'union con il mondo della sommelieria, ovvero la ristorazione, no? Sì. Che valore ha per un territorio la sua ristorazione? È importante, la ristorazione è importantissima perché la ristorazione è quello che sa coniugare proprio il piacere della tavola, della tavola, del locale e andare incontro, perché è quello che dico sempre io questo, non bisogna mai scimbiottare gli altri, cioè dobbiamo imporre noi la nostra tradizione, la nostra cucina a chi ci viene a trovare, cioè se viene un inglese a Pavia non gli devo proporre la sorta di bistecchina al sangue e basta, devo fargli capire cos'è la cassola o cos'è il ragò, ecco, e queste le cose importanti, quindi la cucina pavese sta lavorando bene, secondo me, purtroppo quest'anno è stato l'anno disastroso, ma ci sono tanti ragazzi giovani, tanti ristoratori che hanno voglia di fare e mi auguro che possono continuare a fare questi bei lavori perché i gioventi sanno lavorare bene, è una tradizione anche, la cucina pavese ha dei grandi cuochi, una tradizione di grandi cuochi, dal Musone che è già conosciuto, lo stesso Gualtiero Marchesi, Sacchi, Sozzani, quindi è una tradizione di grandi cuochi che continua ancora tuttora e quindi non bisogna mai smettere e quindi benvenna alla cucina pavese. Sempre avanti un grande pensiero ai nostri ristoratori, presto torneremo a cena e ci regaleremo anche qualche cena in più per recuperare quelle che noi abbiamo potuto vivere nel 2020. Io sono in arretrato, sono in arretrato, quindi qualche cena in più ci vuole. Stiamo in arretrato, allora tutti in libreria, il pavese a tavola di Carlo Aguzzi, farete del bene ma vi dedicherete anche un pensiero di cultura locale, tra quelle pagine veramente vedrete crescere di nuovo un'identità. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a chi ci ascolta e grazie Emanuele. A presto. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.